Alessandro Moneti nella mattinata odierna ha consegnato le chiavi dell'appartamento di via Persoria 53 all'avvocato Alberto Pratelli, custode giudiziario per il tribunale. La famiglia Moneti durante il weekend ha svuotato l'immobile di Soria e si è momentaneamente trasferita da un parente. Una sistemazione provvisoria fino al prossimo primo giugno quando entreranno nella loro nuova casa a Loreto. Noi dal nostro punto di vista personale e di famiglia come coscienza siamo a posto con tutto e con tutti abbiamo fatto il meglio possibile per fare il primo possibile con le migliori soluzioni. Spero che le altre persone, tutte le persone che hanno partecipato a questa vicenda dalla parte opposta abbiano la coscienza a posto come l'abbiamo noi e questo è quanto. Noi anche con la dignità ci troviamo ad essere in pari, poi non abbiamo perso e non abbiamo guadagnato, non era questo il nostro scopo e speriamo di essere stati insomma corretti in tutto e per tutto, di non aver sbagliato niente e di non aver dato modo comunque di pensare della nostra famiglia a cose sbagliate, perciò questo è quanto. Le sensazioni sono sempre le stesse, pesante, dà fastidio, però ormai l'abbiamo messo in conto, avevamo metabolizzato già da tempo fa, quindi abbiamo preso il toro per le corna, dai, ci dobbiamo uscire, usciamo. Dobbiamo sinceramente lasciare quel mazzo di chiavi, anche se è un mazzo di chiavi piccolo, ma ha tolto un peso grosso, quindi dai, svoltiamo pagina, andiamo avanti, ripartiamo da lì, tiriamo una riga e ricominciamo. Ci hanno seguito sì, il Comune, ci ha seguito il Prefetto, il Questore, la Col di Retti, noi dobbiamo praticamente ringraziare tutti, ce l'abbiamo anche stamattina nella consigliere regionale, quindi non sono anche istituzioni piccole, le parole mie che sono di ringraziamento per tutte queste istituzioni qua, e per tutte le persone, perché alla fine sì l'istituzione è l'immagine che dà, ma è la persona che fa la differenza, a mio avviso, quindi noi ringraziamo sia le istituzioni che le persone che ci lavorano all'interno. Ringraziamo anche l'assessore Enzo Belloni, che comunque lui ci ha dato sempre un appoggio quasi praticamente come se fosse di famiglia, perciò è stata sempre una mano sulla spalla che ha fatto il suo dovere, insomma.